Ciao amici! Come stai? Questo è il mio canale di recensioni di prodotti. In questo canale esaminiamo vari prodotti. Tutti i video delle recensioni sono di ottima qualità. E il 90% degli abbonati è felice di guardare i video sul nostro canale. Scegliamo il meglio. Prodotti dal mercato e tieniti aggiornato sulle recensioni. Spero piaccia anche a te. Se tu. Metti mi piace al mio video, assicurati di iscriverti al nostro canale. E dopo aver visto il video, lasciaci. Conoscere la tua opinione nella casella dei commenti. Se vuoi saperne di più su tutti i prodotti. Vedere il collegamento fornito nella casella di descrizione. Oggi parleremo di Top 5 Oscilloscopio Automotriz Mercado Libre. In questo momento iniziamo 5 dettagli del prodotto della migliore qualità seriale per seriale. Quindi guarda il video per. Visione del prodotto e ascoltare la tua migliore aspettativa. Inizia i dettagli del prodotto dei 5 migliori sul mercato. Descrizione del prodotto. Eccellente design industriale. Lo stesso involucro in alluminio anodizzato dell'iPad, che non è solo bello e di buon gusto. Ma ha anche notevolmente migliorato la durezza della superficie in lega di alluminio e ha una buona resistenza al calore e una forte vestibilità. Interfaccia USB XITM standard. Si inserisce facilmente nell'alloggiamento USB XITM per rendere uno strumento combinato. Interfaccia USB 2.0. Nessuna fonte di alimentazione esterna richiesta. Facile da usare. Adatto per computer notebook. Manutenzione della linea di prodotti. Può essere utilizzato facilmente per lavoro. Dimensioni, 205 x 120 X 35, essere trasportato facilmente. Alte prestazioni, campionamento in tempo reale di 48 MSS, larghezza di banda di 20 MHz. Analizzatore logico a 16 canali, larghezza di banda di 10 MHz. Questo è un oscilloscopio portatile completamente funzionale, pratico ed economico. La frequenza di campionamento in tempo reale è di 500 M e la larghezza di banda analogica è di 110 MHz. Oltre a tutte le funzioni di un oscilloscopio palmare convenzionale, abbiamo anche aggiunto una funzione automatica rapida a un tasto su questa base. In modo da poter afferrare facilmente la forma d'onda come un computer desktop. Abbiamo aggiunto un'onda quadra di autotest da 1K HZ per questo oscilloscopio e la profondità di memorizzazione è stata aggiornata a 12K PTS. Con riferimento alla forma d'onda, puoi mettere in pausa in qualsiasi momento per salvare la forma d'onda del fotogramma precedente sullo schermo. Grazie per aver guardato questo video. Grazie per aver guardato questo video. Grazie per aver guardato questo video. Grazie per aver guardato questo video.